Sant'Egidio. C'è su di lui una leggenda gentile. Viveva da eremita nelle campagne intorno a Nims, con la sola compagnia di una cerva e si nutriva del suo latte. Un giorno venne lì a caccia il re dei goti e scagliò contro la cerva una freccia, ma Egidio le fece da scudo prendendosi la freccia nella gamba. Non è ben certa la vicenda della sua origine, sarebbe stato greco di Atene arrivato in Francia tra il VII e l'VIII secolo e più tardi fondatore di un monastero presso Nims. Un monastero diventato assai celebre e per alcuni secoli meta di pellegrinaggi, appunto perché vi custodivano i resti di questo santo monaco. Egidio, da morto, fu venerato in tutta la regione e gli sono stati attribuiti numerosi miracoli e vicende che nessun serio riscontro storico però conferma, come per esempio un viaggio a Roma sul finire della vita e poi un incontro con Carlo Magno. I fedeli erano attratti dalla figura di Egidio, con la sua amabile carità. Non ricordavano parole memorabili di lui, ma piuttosto piccoli gesti affettuosi, umili, vicende come quelle della cerva e lo invocavano come aiuto contro le disgrazie che colpivano i meno fortunati, pastori, barcaioli, mendicanti. Con santo Egidio ricordiamo oggi anche San Giosuè, il quale fu messo da Mosè a capo dell'esercito israelitico. Ordinato con rito speciale a succedere a Mosè, fu colmo di spirito santo e di sapienza. Morto Mosè, espugnò, occupò e distribuì la terra promessa. Il suo valore militare risalta dalla vittoria sugli amaleciti, i cananei e gli amorrei e in particolare dalla presa di Gerico. Lo scopo del libro di Giosuè è quello di dimostrare la fedeltà di Dio nel mantenere la promessa di introdurre i figli di Israele nella terra di Canaan. Questi proprio burinotti. Egidio, Giosuè ci lasciano testimonianze del loro amore al Signore e della loro fedeltà. Non cercano la propria gloria o il proprio tornaconto, ma piuttosto la gloria di Dio. Davanti a Giosuè, che conduceva l'arca dell'alleanza, ed il popolo si aprirono le acque del Giordano, come si erano aperte a Mosè. Questo ci dimostra come Dio è sempre presente in mezzo al suo popolo e sceglie persone che chiama a collaborare con Lui in maniera più stretta, perché attraverso di loro si manifesti a tutto il popolo la sua volontà. Dio nella storia a noi rivelata sceglie sempre dei mediatori, non vuole salvare l'uomo senza l'aiuto dell'uomo. Il Signore vi dia pace. Sant'Egidio, cesso di lui una leggenda gentile, viveva da eremita nelle campagne intorno a Nims, con la sola compagnia di una cerva, e si nutriva del suo latte. Un giorno venne lì a caccia il re dei goti, e scagliò contro la cerva una freccia. Ma Egidio le fece da scudo, prendendosi da freccia nella gamba. Non è ben certa la vicenda della sua origine. Sarebbe stato greco di Atene, arrivato in Francia tra il VII e l'VIII secolo, e più tardi fondatore di un monastero presso Nims. Un monastero diventato assai celebre e per alcuni secoli meta di pellegrinaggi, appunto perché vi custodivano i resti di questo santo monaco. Egidio, da morto, fu venerato in tutta la regione e gli sono stati attribuiti numerosi miracoli e vicende che nessun serio riscontro storico però conferma. Come per esempio un viaggio a Roma sul finire della vita e poi un incontro con Carlo Magno. I fedeli erano attratti dalla figura di Egidio, con la sua amabile carità. Non ricordavano parole memorabili di lui, ma piuttosto piccoli gesti affettuosi, umili, vicende come quelle della cerva, e lo invocavano come aiuto contro le disgrazie che colpivano i meno fortunati. Pastori, barcaioli, mendicanti. Con Sant'Egidio ricordiamo oggi anche San Giosuè, il quale fu messo da Mosè a capo dell'esercito israelitico. Ordinato con rito speciale a succedere a Mosè, fu colmo di spirito santo e di sapienza. Morto Mosè, espugnò, occupò e distribuì la terra promessa. Il suo valore militare risalta dalla vittoria sugli amaleciti, i cananei e gli amorrei, e in particolare dalla presa di Gerico. Lo scopo del libro di Giosuè è quello di dimostrare la fedeltà di Dio nel mantenere la promessa di introdurre i figli di Israele nella terra di Canaan. Egidio, Giosuè ci lasciano testimonianze del loro amore al Signore e della loro fedeltà. Non cercano la propria gloria o il proprio tornaconto, ma piuttosto la gloria di Dio. Davanti a Giosuè, che conduceva l'arca dell'alleanza ed il popolo, si aprirono le acque del Giordano, come si erano aperte a Mosè. Questo ci dimostra come Dio è sempre presente in mezzo al suo popolo e sceglie persone che chiama a collaborare con Lui in maniera più stretta, perché attraverso di loro si manifesti a tutto il popolo la sua volontà. Dio nella storia a noi rivelata sceglie sempre dei mediatori, non vuole salvare l'uomo senza l'aiuto dell'uomo. Il Signore vi dia pace.